Il 9 maggio l'Unione Europea celebra la sua giornata di festa. A Città della Scienza, da domani e fino al 15 maggio, si svolgerà la Festa dell'Europa, un progetto di riflessione e studio sui temi centrali per il futuro dell'Unione Europea, come l'euro, le politiche sociali, la lotta alla criminalità, gli sprechi alimentari, le nuove possibilità di lavoro. Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schumann lanciò la proposta di affidare a un'autorità sovranazionale il controllo della produzione di carbone e acciaio, materie prima allora essenziali per le forniture militari, come primo atto di una federazione europea che Schumann riteneva indispensabile per la conservazione di una pace e duratura. Quell'iniziativa a cui aderirono oltre alla Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Italia, viene considerata come l'atto fondativo dell'integrazione europea. Organizzata dal CEIC, Centro Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Idis, la Festa dell'Europa prevede la partecipazione di otto scuole superiori campane, a ognuna delle quali è affidato lo studio di un argomento specifico. Gli studenti curano anche una mostra di installazioni artistiche sui temi assegnati. Al San Carlo il 9 maggio sarà festeggiato col concerto Inni d'Europa, un programma di voci e danze da tutto il territorio europeo, che si chiuderà col monumentale Inno alla gioia di Beethoven, canto universale della fratellanza umana e dal 1972 Inno ufficiale dell'Unione Europea.